Avevamo prenotato il volo per andare a Malta ed eravamo 180 persone, poi il volo non è partito più ma la cosa drammatica è stata che non ci hanno comunicato comunque niente. Dalla compagnia di volo non è stato detto né come ovviare a questa cancellazione del volo né cosa dove dovevamo andare, quindi siamo rimasti in 180, c'è stato pagato l'albergo a Perugia e l'indomani la mattina dopo, quindi ieri, ci siamo trovati tutti quanti senza avere comunicazioni e senza sapere cosa fare. Quindi c'è qualcuno che si è organizzato e se ne è tornato a casa con mezzi propri e altri che aspettavano fiduciosi che la compagnia avesse trovato alternative, cosa che invece ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione, ci è stato semplicemente detto il volo è cancellato, arrangiatevi, arrivederci. Il problema sono i ragazzi che andavano in vacanza a Malta, che avevano già pagato gli alberghi, le strutture ricettive e per loro il danno è ingente perché comunque hanno pagato tutto quanto e si trovano non solo a rinunciare alla vacanza ma anche non per loro colpa, anche a subire una perdita anche a livello morale.